In questa città nera e assassina, il male non dorme mai. Chi combatte il crimine come me deve imparare a sopravvivere. Ladri, sociopatici, teppisti, loro non hanno regole. Io sì. Regola numero uno. Essere professionista. Polemico. Puntiglioso. Regola numero venticinque. Combatti la corruzione. O fatti pagare bene. Regola numero cento uno. Non sparare sentenze. Sparaproiettili. Stai commettendo un grosso errore, detective. Ci sono abituato. Ancora qui. Se non hai fegato, a cosa ti serve quel ferro vecchio? Questione di stile. Fa parte del mio personaggio. olanico. Sparaproiettili. Sparaproiettili.